Annunciata la nuova stagione di prosa per il Teatro Ronconi di Gubbio. Presso la Sala degli Stemmi del Comune di Gubbio, la ricca scaletta di appuntamenti teatrali che si susseguiranno nel corso del 2018-2019, è stata presentata dal direttore del Teatro Stabile dell'Umbria, Nino Marino, assieme alla responsabile del circuito teatrale, Bianca Maria Ragni. Presente anche il sindaco Filippo Mario Stirati e l'assessore alla cultura Augusto Ancillotti. Il Teatro Comunale Luca Ronconi, che con il Comune di Gubbio, cofondatore del Teatro Stabile dell'Umbria, collabora in sinergia con l'associazione per realizzare quegli obiettivi che possono permettere all'arte di esprimersi liberamente, appoggiandosi sempre alla colonna portante del teatro, il pubblico. Non posso non citare Gubbio come città del teatro, il cuore un po' dello Stabile dell'Umbria, perché ha visto nascere la prima produzione dello Stabile dell'Umbria con la regia di Ronconi, di cui il teatro ormai prende il suo nome. Questo per dire che le produzioni dello Stabile dell'Umbria esprimono l'identità del teatro. Il patrimonio, sono tutti i teatri che ne fanno parte, il pubblico è la sua risorsa. Iniziamo quest'anno con una carrellata di grandi attori. Iniziamo con Anna Bonaiuto che fa un omaggio a Sara Bernarde con la regia di Marco Carniti, ma ci sarà anche Vinicio Marchiorri, Francesco Montanari, Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Emilio Solfrizzi. Ci sarà la Compagnia dei Giovani con uno Shakespeare racconto d'inverno, ma ci sarà anche Sheikov. Due spettacoli dove il teatro incontra lo sport e se ne fa metafora, uno sulla palla al volo e l'altro sul tennis. Uno spettacolo di danza di una compagnia di danza contemporanea che si è formata a New York e farà uno spettacolo dove si racconterà della natura come anima del mondo. Natura, sport, classici del teatro, drammaturgia, contemporanea, saranno dunque i grandi protagonisti di questa stagione teatrale. Inoltre sono previste le rappresentazioni che verranno effettuate presso il teatro romano, le quali daranno la possibilità di poter godere degli spettacoli inserendoli in una location davvero meritevole. Come ha sottolineato anche il sindaco Stirati, il teatro rappresenta una fonte di bellezza e stupore la quale permette di attuare un vero e proprio percorso artistico che lascia affiorare principi e valori culturali e sociali fondamentali per la società.